cari amici di youtube buongiorno oggi faremo un insalata ricca di vitamine c e quello che ci servono sono due finocchi, tre aranje, metà cedro, tre limone, una metà cipolla, sale, pepe, olio extravergine di olive e un po' di zenzero. Per i finocchi procediamo così, togliamo le foglie più coriacee, tagliamo le foglie, le andremo a lavare accuratamente. Per il cedro tagliamo la metà, vedete? E dovremmo soltanto togliere la parte gialla, conserviamo quella bianca. Faremo lo stesso per le aranje e andremo a spremere il succo di limone. Abbiamo tagliato tutto a fette, sia cedro, carange che finocchi. Per la cipolla la dobbiamo tagliare in questo modo, molto fino. Nell'insalatiere metteremo i finocchi, le olive, il zenzero, cedro, aranje, cipolla, succo di limone, olio extravergine di olive, sale e pepe e continuiamo e andiamo avanti così. Ecco la nostra insalata pronta, rinfrescante e salutare. Possiamo affrontare l'inverno. Buona giornata a tutti, alla prossima! Buona giornata! Buona giornata!